Nuova camper Marostica, nuova sede a San Drigo, in zona industriale. Camper su misura, personalizzati e con allestimenti speciali per disabili, fici e ambulatori mobili. Anche l'usato come nuovo, garantito. Nuova camper Marostica, nuova sede a San Drigo, in zona industriale. Dal 14 al 30 settembre, pieni allo straordinario, porte aperte. Ti aspettiamo!